Cari amici, bentrovati! Oggi andiamo a scoprire insieme l'organetto più piccolo del mondo. Guardate che cosa ho qui sotto. L'organetto, il mazzantino, il legno, due bassi, dieci tasti. L'organetto pesa solamente 1,2 kg. È molto maneggevole, tutto decorato. Ha questo rombo nel mantice. Ha la chiusura in cuoio, marrone e rosso. Il ditale ugualmente in cuoio, rosso internamente e marrone esterno. Ha la tracolla rossa. E il manale ugualmente marrone e rosso. È un gioiellino. Guardate quanto è carino. Poi lo andremo anche a sentire. Vediamo insieme le misure. Ha una larghezza, questa larghezza qui, di 25 cm. Una profondità di 10 cm. Questa altezza qui è 13 cm. Un organetto tascabile. Bellissimo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.